Hyundai ha completamente rinnovato la i20. La cinque porte coreana che avremmo dovuto vedere a Ginevra è cambiata radicalmente. La terza generazione della i20 è il frutto di un nuovo linguaggio stilistico che in Hyundai chiamano sensuous sportiness. Il risultato lo vedete, è un cambio di immagine importante, ora è molto più moderna e aggressiva, niente più che vedere con il modello uscente. Guardiamo alcuni dettagli. Nel frontale il taglio dei gruppi ottici prolungati sulla fiancata, la grande mascherina anteriore, le ampie prese d'aria, ma anche guardandola di lato, nel montante posteriore per esempio c'è un elemento lucido che chiude la linea di cintura e si collega visivamente al portellone. La potrete personalizzare combinando le 10 tinte esterne con il tetto nero a contrasto. Ora è più bassa di 24 mm, è più larga di 30, è più lunga di prima di soli 5 mm e raggiunge i 4,04 metri. È invece cresciuto il passo di 10 mm per offrire maggiore abitabilità. È completamente nuova anche dentro, la plancia è contraddistinta da un cruscotto alto e prominente che comprende anche il sistema di infotainment. I pannelli delle portiere hanno un design semplice ma elegante. Gli interni sono disponibili in tre diverse combinazioni di colore. Tecnologia parlando, offre uno dei pacchetti di connettività più completi del suo segmento. Sono due i display da 10,25 pollici. Uno è dietro al volante e cambia tonalità in base alla modalità di guida scelta. L'altro touch, al centro, è il sistema multimediale. Questo offre anche la funzione split screen per il multitasking. È la prima city car con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. C'è il pad di ricarica wireless per smartphone nella console centrale. Si può avere anche un impianto audio premium Bose con 8 altoparlanti tra cui un subwoofer. È disponibile la tecnologia Blue Link che comprende un'ampia gamma di servizi connected car come i live services di Hyundai, info in tempo reale sul traffico sviluppate da TomTom, sui parcheggi, sui costi dei carburanti, il meteo e vengono segnalati anche gli autovelox. Blue Link viene fornito con un abbonamento gratuito di 5 anni. I comandi vocali sono basati su cloud e la connessione remota con l'auto avviene tramite app. Il bagagliaio è cresciuto un po', ora offre 351 litri di capacità, 25 in più rispetto alla versione uscente. Ma sono tante le novità soprattutto sotto il cofano. Potete scegliere tra tre versioni a benzina, un 1.2 4 cilindri aspirato ad 84 CV abbinato a un cambio manuale a 5 marce oppure un 1.3 cilindri turbo TGDI in due step di potenza 100 e 120 CV a cui può essere abbinato un sistema mild hybrid a 48 Volt che dovrebbe farla consumare meno. È di serie per la versione più potente e come optional sul 100 CV. Per le versioni mild hybrid sono disponibili un nuovo cambio manuale a 6 marce intelligente che scollega il motore della trasmissione dopo che si rilascia l'acceleratore, permettendo alla i20 di entrare in modalità costing per ridurre i consumi. L'alternativa è un automatico doppia frizione a 7 rapporti. Quando non è abbinato al sistema ibrido a 48 Volt, il 1.1 da 100 CV è disponibile con l'automatico a doppia frizione o con un manuale a 6 marce. La nuova i20 promette anche di essere molto più sicura, con una serie completa di ADAS. Si arricchisce infatti il pacchetto di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense e ora comprende diverse nuove funzionalità come la nuova generazione di frenata autonoma di emergenza, con rilevamento veicoli, pedoni e ciclisti e il Navigation Based Smart Cruise Control che sfrutta il sistema di navigazione per anticipare le curve o i rettilini in arrivo sulle autostrade e regola automaticamente la velocità. Speriamo di mettere alla prova più presto. Insomma, con un nuovo design, elegante e più giovane, nuovi powertrain anche elettrificati, una dotazione più ampia anche per la sicurezza, è pronta a sfidare le concorrenti dell'agguerrito segmento B.